Egregio Presidente della RAI Paolo Garimberti, siamo di fronte a uno scandalo ormai divenuto mondiale, ma a uno scandalo mondiale corrisponde anche a uno scandalo italiano, il direttore del Tg1, Augusto Minzolini, sta violando sistematicamente tutte le norme professionali, oscurando completamente questa notizia da diversi giorni, siamo quindi di fronte a incompetenza professionale, a negazione dei più elementari principi della deontologia giornalistica e a una mancanza di parola, perché questo signore appena nominato aveva giurato che avrebbe dato un'informazione imparziale e completa, non sta facendo né l'una né l'altra cosa, lo mandi a casa, ci sono buone cause, giuste cause di licenziamento, lo mandi a casa, ne va anche della sua onorabilità professionale, tutti coloro che sono di questo avviso mandino la stessa richiesta al Presidente della RAI, la mandino a noi e gliela mandino sul suo sito direttamente, cerchiamo di farci sentire, ne va della nostra democrazia.